Signore Gesù, apprende-nù a essere generoso, Signore, insegno di essere generoso, a servirte come lo meriti, a dare senza contare, a lavorare senza pensiero delle ferite, a lavorare senza pensiero delle riposere, a lavorare senza cercare di riposere, a vivere pensare senza attendere altre ricompense che scegliere di sapere che dovremo fare la tua santa volontà. La tua santa volontà è la tua santa volontà. Grazie a tutti.